Terza edizione per il Trail della Lana, partenza e arrivo a Peia, un appuntamento che ormai si sta consolidando, un appuntamento che ha le sue radici nella tradizione della Val Gandino. Sì, è partito tutto proprio tre anni fa per volere portare la nostra tradizione e far conoscere quello che succedeva una volta a Peia. Peia è riconosciuto proprio anche come paese della Lana, infatti c'è la famosa Via della Lana, che era una via che i nostri antenati percorrevano per portare i nostri prodotti, quindi tutta la Val Gandino, li portarono addirittura fino all'Oriente, passando ovviamente da Venezia e portarli fino all'Oriente. Il nostro percorso di questa gara, di questo Trail, quindi c'è un po' da far fatica, passa proprio, parte del Comune, passa da questa Via della Lana che si trova appena fuori dal nostro paese e poi ovviamente va su tutti i nostri sentieri, arrivando fino a Monticelli e la Sparaera, che è il punto più alto di questo Trail, dove c'è un panorama strepitoso, addirittura si possono vedere i due laghi della nostra zona. La gara ormai inizia a farsi conoscere, ad attirare appassionati, anche atleti che solitamente si mettono in campo quando ci sono i Trail. Sì, allora quest'anno abbiamo anche voluto un pochettino alzare l'asticella, mettendo comunque anche dei buoni valori, i primi classificati, sia maschili che femminili ovviamente, e quindi i corridori si stanno iscrivendo. Anzi, voglio ricordarvi che venerdì è l'ultimo giorno, il 30 di agosto è l'ultimo giorno per potervi iscrivere. Abbiamo nomi di livello, abbiamo Poli, che ha vinto la prima edizione, l'anno scorso si è presentato secondo, Luca Rigoni, che ha vinto la seconda edizione, quest'anno non ci sarà, ma perché va a fare i mondiali, quindi abbiamo avuto nomi di livello, abbiamo la Samantha Galassi, che ha vinto l'anno scorso nel femminile, e abbiamo anche corridori del nostro paese, e questo ci dà anche un po' di orgoglio. Abbiamo comunque il nostro Eros Chigioni, abbiamo Diana Brignoli, che sta incominciando adesso nelle prime armi a correre, però questo ci dà un po' di orgoglio, che sta arrivando proprio anche in centro al paese questa gara, quindi ci permette un pochettino di portare avanti queste tradizioni. Abbiamo parlato della gara degli atleti, ma se non sbaglio i percorsi sono due. Sì, possiamo parlare proprio di due percorsi. Il principale è proprio i 20 chilometri con mille metri di dislivello, che abbiamo parlato prima, dove gli atleti sono agonisti. L'altro percorso è un secondo anno che facciamo, l'edizione per i bambini. I bambini, parlo proprio dai 6-12 anni, cioè i bambini, tutti quelli del paese, ma anche i figli dei corridori, intanto che aspettano il loro papà o la mamma, si divertiranno lì nella zona dell'arrivo, dove c'è il parco giochi davanti al comune, con una piccola gincana. Bastano davvero vestiti comedi e una delle pantofole. Noi creeremo il percorso, ci saranno gadget e premi per tutti. E poi come si concluderà la giornata? Allora, si conclude l'oratorio di Peglio, dove c'è il pasta party, aperto a tutti, i corridori, i familiari, e a tutti quelli che vogliono unirsi per finire al meglio proprio questo evento. Lì ci saranno le premiazioni, ricordiamo che si verranno premiati ovviamente i primi classificati, ma ci sarà anche un'estrazione di un orologio Garmin, estrazione di abbigliamento di tutti i nostri sponsor che ci hanno dato una mano veramente per organizzare al meglio questa terza edizione.